Alla vigilia di quello che sarebbe stato il suo compleanno, Brusciano ha voluto ricordare Ornella Pinto, la giovane mamma uccisa dal compagno lo scorso 13 marzo a Napoli. Alla presenza del padre, della famiglia e delle colleghe di Ornella è stata inaugurata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Vogliamo ricordare con questo semplice gesto Ornella e tutte le vittime di femminicidio, ha detto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. È un monito, un monito per tutti, non si abbassano le pene, le pene devono essere certe, una persona che ha fatto una cosa del genere deve finire i suoi giorni in galera, perché altrimenti ce ne saranno tante altre di Ornella, visto che dall'inizio dell'anno ad oggi già ci sono 15 casi di femminicidio, un bollettino da guerra. Non voglio assolutamente vendetta, ma voglio giustizia, perché la vendetta che significa che tu fai del male a me, io lo faccio a te, è una cultura che non mi appartiene. Però chiedo giustizia perché noi abbiamo gli ordini competenti che devono decidere, praticamente far sì che queste cose non succedano, non devono succedere. Siamo nel 2021, una città, una nazione civile come si dice, ma c'è tanta violenza, quindi un appello lo faccio a capo dello Stato che intervenga sul Parlamento con provvedimenti proprio decisi a far sì che queste cose non devono succedere. Se io praticamente dico che ho ammazzato mia moglie, ho ammazzato la mia fidanzata, condanna secca, secca!